Non sarà il solito video con immagini sui monumenti e gli scorci più caratteristici di Vercelli, ma qualcosa di diverso? Diciamo che la città va scoperta anche in parti che non si conoscono, quindi l'idea del video è andare a scoprire sì i monumenti, sì le cose che vediamo tutti i giorni, che conosciamo noi vercellesi, ma anche le cose che non conosciamo. Per far questo si è deciso di iniziare a avere un anno di lavoro in modo da andare a riprendere in modo un po' particolare con nuove tecnologie parti di Vercelli anche nascoste, quindi un lavoro in tutte e quattro le stagioni, quindi vedere i monumenti nell'arco dell'anno, nell'arco della giornata, quindi sia di giorno sia di notte, quindi andando a scoprire monumenti illuminati, quindi in una forma che sarà lunga da... un lavoro lungo, quindi questo spettacolo è la presentazione di questo lavoro, praticamente ci sarà un trailer, però si inizia già a scoprire quello che è questa tecnologia Hyperlapse, che è una tecnologia che si usa già in tutto il mondo per riprendere le città, quindi questo è un po' il... Il video sarà pronto tra un anno, questa è un'anticipazione per, visto che stiamo parlando della nostra città, facciamo proprio dialoghi sulla nostra città, cioè andiamo a scoprirla, come è stata, come si è evoluta e iniziamo a vedere questo video che racconta com'è adesso, quindi questo è il senso di questo spettacolo. Il tutto a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia, a favore di Norcia. In questo spettacolo, in questa serata, ricordiamo proprio il dramma di queste popolazioni e ricordiamo che noi siamo con loro attraverso tutti i colpi volontari della città di Vercelli, legati da un coordinamento della protezione civile di Vercelli. Forse Alex voleva evidenziare la possibilità che questo video possa partecipare ad un concorso 4K, se non sbaglio, tra le città europee, per filmati ad alta definizione, sempre attraverso attività come queste, e la bellezza dell'eccellenza di Vercelli, sta anche nella grande disponibilità, nella volontarietà di queste attività. Vogliamo dare un'immagine di Vercelli, a prescindere dalle immagini delle strutture, che in realtà l'umanità è il cervello di Vercelli, giovani che non vogliamo assolutamente che prendano una destinazione ignota, vogliamo far sì che restino a Vercelli e che facciano risorgere Vercelli.